Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Questo è lo spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare del pianoforte e con noi oggi in studio c'è Rita Tamburrino. Ciao a tutti! Lei è una brava cantante e ci aiuterà a cantare... Da 0 a 100 di Baby K. Yeah! Bene ragazzi, questa canzone si compone di tre accordi solamente, che sono il Re minore. Sappiamo che dove ci sono i due tasti neri, a sinistra c'è il Do. Il Re minore, questo è Re, si compone di queste note. Re, Fa e La. Poi, subito dopo, c'è il Sol minore. Quindi, andiamo di qua. Questo è Do, Re, Mi, Fa, Sol. Il Sol minore ha il Sol, il Si bemolle e il Re, quindi questo. Ed infine il Do maggiore, che è un accordo che ormai conosciamo bene, Do, Mi, Sol. E la canzone fa così. Ho perso il conto di quanti viaggi di fare Quanti chilometri senza partire mai Io cerco il mare mentre tu cerchi il Wi-Fi Quest'estate cosa fai? Faccio di tutto, prendemi tutto e... Come vedete, gli accordi seguono questo andamento. C'è quattro volte il Re minore, quattro volte il Sol minore, Poi c'è il Do maggiore, ancora quattro volte E si ripete Re minore e Do Facendo due battute per ogni accordo. Poi la canzone va avanti così Gli ultimi posti in aereo Paolo è che tocca nel cielo Foto con la scena che ho c'ero Andare, andare Due e due Poi c'è il ritornello E resta tutto uguale. Poi la canzone va avanti Sempre seguendo gli stessi accordi. Bene ragazzi, come avete visto Anche questa era una canzone molto semplice da suonare. Io vi lascio comunque in descrizione la diteggiatura per entrambe le mani E il testo, un link da dove apprendere il testo con gli accordi. Ringrazio Rita Grazie a te Per essere stata con noi e averci aiutato E vi diamo appuntamento Nella prossima puntata Yeah